Siamo senza lavoro, senza soldi, senza niente dal 2012 che chiamano a 5, ne chiamano 6, ne chiamano 7, oppure chiamano delle cooperative, il multiservizio oppure altre, a noi non ci chiamano. Da quanto non lavora lei? Da 2013, ho finito a luglio e siamo tutti in mezzo a una strada senza lavoro, a me noi chiediamo di rimetterci al lavoro un giorno o l'altro, non dico anche tre mesi, a turno, facci fare un tre mesi per uno. Come si fa signora, come vive? Come viviamo? Alla giornata, perché ho solo mio marito che lavora, una casa, tutte le bollette da pagare e ora siamo rimasti con le spalle alle parete. Sono le parole accorate di alcuni dei circa 400 ausiliari storici a contratto a tempo determinato della provincia di Agrigento, che stamani hanno protestato dinanzi alla sede dell'azienda sanitaria di Agrigento, per sollecitare una copertura contrattuale e garantirsi un'occupazione per il nuovo anno. Hanno chiesto un incontro col dirigente generale Salvatore Ficarra, qui hanno illustrato la tragica situazione che si trascina da tempo e in cui vivono, che non garantisce tranquillità ai portantini, che saltuariamente hanno ricevuto incarichi dall'azienda stessa. La protesta è che poi Pambiano, tramite leggi che hanno fatto a suo favore l'Aspi, hanno fatto entrare cooperative esterne e man mano con le leggi sotto rifugi ci hanno buttato fuori. Ma voi avevate un contratto con l'Aspi? Sì, contratti a termine, contratti di sei mesi, contratti di un anno, che a noi ci facevamo comodo, che poi tramite la disoccupazione ci facciamo vivere. Però ora ci troviamo fuori e non possiamo fare più niente.